Allora oggi parleremo delle piramidi, una delle sette meraviglie del mondo antico, l'unica rimasta e tutti gli ingressi delle piramidi stanno al nord dove c'è la stella più famosa, la stella polare, la stella polare, le stelle del nord, le stelle che non si nascondevano mai, che secondo loro l'anima del faraone rimaneva sempre fra quelle stelle. La cosa più importante che noi diciamo anche è che la stella del nord, la stella polare, come se fosse la stella che stava sempre stabile. Allora tutti gli stelle stavano attorno, tutta la costellazione stava attorno, allora forse loro hanno pensato che tutto sarà attorno all'anima del nostro faraone. Questa è un'altra idea, ma quella principale che l'ingresso sta al nord dove c'è la stella più famosa, la stella polare, le stelle che non si nascondevano mai. Siamo venuti alla piramide dove possiamo vederci così e anche l'ingresso della piramide sta davanti a noi qua. Grazie tanto. Allora così, un minuto, informazione in un minuto e l'ingresso sta al nord dove c'è la stella famosa, la stella polare. Perfetto. Allora come si vede noi siamo davanti alla piramide, ci sono quasi, qua siamo al nord dove c'è l'ingresso, allora precisamente al nord. Magnetico come abbiamo visto nella posola qua. Questo è l'ingresso della piramide. Grazie a Natascha che ci va a fare quel video, un po' corto, lo facciamo su Facebook. Grazie. Perfetto.